Denunce, segnalazioni e controlli nel fine settimana alla Spezia. Ancora un weekend all'insegna dei controlli interforze sotto il coordinamento della Questura Spezzina che ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio con l'impiego di tre equipaggi della squadra volante, due della Guardia di Finanza di cui uno con tacinofila antidroga, uno dell'arma dei carabinieri e due equipaggi della Polizia Municipale. Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 97 persone e decine di autoveicoli. Tra i vari interventi un trentenne albanese residente in provincia di Varese è stato notato in atteggiamento sospetto e quindi fermato per un controllo in Viale San Bartolomeo con esito positivo in quanto trovato in possesso di un grammo di cocaina. Un ventunenne di origine dominicana residente alla Spezia sempre nella notte di sabato veniva controllato dal personale della Finanza con l'ausilio dell'unità cinofila che stava pattugliando i giardini pubblici via Chiodo. Il soggetto è stato trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente. Il soggetto è stato trovato in possesso di un grammo di hashish. I due pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Residenza in quanto assuntori di sostanze stupefacenti per il seguito di competenza. Alle 23 di sabato veniva fermato e identificato un cittadino slovacco già gravato da numerosi precedenti di polizia che in evidente stato di ebbrezza stava danneggiando alcune autovetture in sosta in via Liguria. Lo stesso una volta fermato iniziava a dare in escandescenza e quindi veniva accompagnato presso gli uffici della Questura e denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza pubblico ufficiale. A Sarzana verso le due di notte una pattuglia della stradale in via 25 Aprile sorprendeva e denunciava in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un cittadino rumeno che si trovava alla guida di un autocarro con un tasso alcolemico di 1,7 grammi per litro.